Ben ritrovati amici a questo nuovo appuntamento con la parola di Dio. Vogliamo leggere nell'Evangelo di Luca, al capitolo 15, leggeremo soltanto due versi. Così è scritto. Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a quella perduta finché la ritrova? È trovata tutto allegro, se la mette sulle spalle. Il capitolo 15 dell'Evangelo di Luca è dedicato alle cose e alle persone smarrite. Gesù ci presenta l'esempio di una pecora che si è smarrita, poi di un denaro che si smarrirà e di un figliolo che lascerà la casa. Ma riguardo a quanto abbiamo letto, è la risposta appunto di Gesù ad alcuni religiosi persuasi di essere più giusti degli altri e il loro atteggiamento li portava a criticare, a giudicare, perché è scritto nella Bibbia che i varisei e i scribi mormoravano perché Gesù accoglieva i peccatori. Ma Gesù un giorno disse, colui che viene a me io non lo caccerò fuori, anzi io lo salverò, perché l'opera di Cristo è stata quella di venire per cercare e per salvare ciò che era perduto. E questa è l'opera che Gesù desidera compiere verso quanti ne hanno bisogno, quanti sono smarriti, quanti sono persi in questo mondo e sono schiavi del peccato e non hanno la forza di ritrovare la via per ritornare a casa. Purtroppo non tutti sono consapevoli di questo stato di bisogno, di questa forma di schiavitù spirituale e morale. Ecco perché Gesù vuole raggiungere ancora oggi quanti sono stati ingannati, sedotti dalle lusinghe del piacere, delle passioni e che si ritrovano in delle relazioni legate per cui non riescono a venirne fuori. Dice la parola di Dio riguardo al ministerio di Gesù, queste meravigliose parole troviamo nella parola di Dio. Lo Spirito del Signore, profeticamente era stato già annunciato, è sopra di me, dice Gesù. Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Questa è l'opera che ancora oggi Gesù compie verso quanti lo invocano, verso quanti desiderano venire fuori dai propri problemi, dalle proprie difficoltà. Potrebbe sembrarti anche strano, ma tu sei l'unica preoccupazione di Dio, fino a quando il Signore non avrà raggiunto il tuo cuore, perché Lui sa che tu hai bisogno di Gesù e cercherà fino alla fine dei tuoi giorni, il Signore cercherà di recuperarti, perché l'opera di Cristo sulla croce è stata estesa per tutto il mondo. Leggiamo nella Bibbia che Dio ha tanto amato il mondo, che ha donato il suo nigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Un amore incondizionato, un amore che non valuta le trasgressioni passate, che non mette in conto ciò che avverrà nel futuro, ma un amore che raggiunge ogni persona in questo momento, in questo istante. Ecco, oggi ti senti abbandonato, se ti senti deluso, se senti di aver bisogno del Signore, Gesù è pronto a venirti incontro. La pecora smarrita significa anche una sola persona, anche la tua sola vita. Gesù è interessato, di fatti questo brano dice, chi ha vento cento pecore non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quell'unica che si è smarrita. Quindi Gesù non è l'iddio delle masse, non è l'iddio dei grandi numeri, ma Gesù oggi vuole salvare la tua vita. Proprio come andò alla ricerca di quell'unica pecora perduta, la raggiunse, la trovò. Ed è questa realtà qualcosa di meraviglioso che ci può capire che il Signore non solo ci raccoglie, ma ci prende in braccio per riportarci al sicuro. Ecco, il Signore stesso si rallegrerà per la tua salvezza, ma la gioia più grande la realizzerai tu quando darai il tuo cuore a Gesù. Ecco che avranno fine le tue sofferenze, le paure, avranno fine le tue ansie, le sollecitudini della tua vita. Non sarai più solo perché Gesù sarà il tuo amico. Quindi Gesù desidera portarti al sicuro, Gesù desidera portarti nella sua casa, alla sua presenza. Egli ti chiama per nome dicendoti, tu sei preziosa agli occhi miei ed io ti amo. Queste non sono parole di circostanza. Questo è il cuore di Dio che è rivolto verso l'umanità. Questi sono i sentimenti di Dio verso l'uomo che vive lontano da Lui, che vive nelle proprie ansie e nelle proprie paure. La soluzione al tuo problema c'è. In questo momento potranno avere fine le tue ansie, le tue preoccupazioni. Se il tuo cuore si aprirà Gesù. Lasciati trovare dal Signore. Egli ha la tua ricerca. Forse neppure lo sai, ma Lui ti sta cercando. Proprio con il brano che abbiamo letto, Lui lasciò le 99 pecore nel deserto per raggiungere quell'una che sicuramente era impaurita, era affamata, era preda di pericoli. In Gesù noi abbiamo la sicurezza. In Gesù noi abbiamo la salvezza. In Gesù noi abbiamo il perdono. In Gesù noi abbiamo la vita eterna. In Gesù noi abbiamo una vita esuberante. Questa è l'opera del Signore. è venuto per dare vita e vita esuberante. Che Dio ti benedica. Che tu possa fare di questa parola oggetto della tua continua meditazione e dare il tuo cuore a Dio. Dio ti benedica.